Tra i tifosi della Gelbison c'era grande attesa per l'Assemblea dei Socii, che aveva all'ordine del giorno, oltre alle dimissioni del gruppo dirigente con in testa il presidente Ottavio Dei Politis, anche la richiesta di fusione con il Valdiano, argomento questo che aveva mandato in subbuio l'intera tifoseria. Ci ha pensato però il legale rappresentante del club valdianese a stemperare gli animi. In apertura di assemblea, infatti, è stata letta la sua e-mail, giunta attraverso la posta elettronica, in cui annunciava la decisione di ritirare la proposta. Per cui tutti hanno tirato un sospiro di sollievo, ma già nelle anticipazioni rilasciate nei giorni scorsi dal dimissionario presidente, si era capito che questa ipotesi era definitivamente tramontata. Intanto è stata confermata la consegna del titolo nelle mani del sindaco di Vallo della Lucania, che dovrà ora fungere da mediatore per cercare nuovi acquirenti disposti a rilevare le sorti del club rosso-blu. Poi Dei Politis ha evidenziato che ha provveduto a saldare le spese tributarie e sta lavorando con i tesserati per portare il bilancio in pareggio. Gli altri argomenti sono stati rinviati alla prossima assemblea, che è stata fissata per sabato 8 giugno, sempre presso l'Aula Consiliare. Intanto si parla di possibili interessamenti da parte di alcune cordate cilentane.